Se ti dicessi che puoi approfittare del Black Friday per acquistare un post portatile con sconti fino al 70% e che addirittura puoi acquistare un post portatile per meno di 10€ sono sicuro che vorresti saperne di più Dopo i miei video dedicati ai post SumUp e Nexi che ti lascio linkati qui sopra nelle schede e qui sotto in descrizione oggi vediamo insieme quali sono le migliori offerte sui post portatili di SumUp, MyPost e Axerve per il Black Friday In descrizione inoltre troverai sia i link alle pagine con le offerte sempre aggiornate sui post portatili sia il link ad una pagina che ho creato e che aggiorno mensilmente con le varie promozioni ed il confronto delle varie proposte di post portatili Ovviamente quelle di cui ti parlerò sono le promozioni disponibili al momento della registrazione del video ma in descrizione troverai sempre tutte le ultime offerte aggiornate oltre alle pagine ufficiali dei vari post portatili tramite le quali potrai acquistare il post che preferisci oppure leggere condizioni, caratteristiche e funzionalità Partiamo quindi con SumUp, un post perfetto per chi cerca semplicità e convenienza Attenzione però perché le offerte di SumUp sono valide fino al 2 dicembre 2024 Come si può leggere sul sito ufficiale che trovi linkato qui sotto in descrizione fino al 2 dicembre possiamo acquistare il SumUp Solo Lite per 19€ invece di 39€ il SumUp Solo con base di ricarica per 39€ invece di 79€ ed il SumUp Solo con stampante per 84€ invece di 139€ Se stai cercando quindi un post senza canone mensile che ti permette di accettare pagamenti con carta, smartphone o di inviare richieste di pagamento tramite link senza dover sostenere costi elevati senza costi di attivazione, senza canoni fissi o nascosti questa è sicuramente un'occasione da non perdere Aspetta però prima di prendere la tua decisione perché ti devo fare una domanda Ti piacerebbe spendere ancora meno e avere comunque un ottimo post portatile? Nell'introduzione del video ti avevo detto che c'è un post portatile in offerta per il Black Friday per meno di 10€ e non stavo scherzando si tratta di MyPost Go 2 il lettore di carte portatile autonomo con connessione con scheda SIM 4G integrata e gratuita senza canone mensile con connettività Wi-Fi possibilità di inviare e ricevute via email ed SMS e questo post è in offerta fino all'8 dicembre 2024 potrai infatti acquistarlo per 9,90€ IV esclusa invece di 39€ con MyPost Go 2 inoltre hai l'accredito istantaneo sul tuo conto aziendale MyPost senza costi aggiuntivi la possibilità di richiedere una carta business mastercard gratuita l'app mobile per tenere sott'occhio la tua attività ed il conto aziendale MyPost con IBAN dedicato in 14 valute gratuito in più la registrazione si può fare in meno di 5 minuti online tra gli altri servizi e funzionalità di MyPost ci sono inoltre MyPost Online per chi vuole creare un negozio online gratuito per vendere in tutto il mondo MyPost Glass per ricevere pagamenti con carte contactless sul telefono Android la possibilità di generare e condividere link di pagamento e la funzione di preautorizzazione per mettere al sicuro i tuoi pagamenti e proteggere la tua attività nel lungo periodo per saperne di più trovi il link che ti permetterà di scoprire l'esclusiva offerta Black Friday su MyPost Go 2 qui sotto in descrizione piccola interruzione se questo video ti sta piacendo ricorda di supportare il canale con un pollice in su iscrivendoti ed attivando la campanella e se conosci qualcuno che potrebbe essere interessato ad acquistare un post portatile condividi questo video su Whatsapp o sui tuoi social preferiti torniamo quindi alle promozioni sui post per chi volesse infatti ci sono altri sconti su tutta la linea di post portatili MyPost sconti validi fino all'8 dicembre 2024 sarà possibile infatti acquistare MyPost Go Combo per 99 euro invece di 189 euro MyPost Carbon per 119 euro invece di 229 euro e MyPost Pro per 189 euro invece di 249 euro alcuni di questi dispositivi sono perfetti per chi cerca funzionalità avanzate come gestione di fatture, modalità multioperatore e molto altro ancora infine parliamo di Axerve che in occasione del Black Friday ha pensato ad un'offerta completamente differente ovvero alla possibilità di ottenere il 50% di cashback sulle commissioni come si può leggere sul sito ufficiale il cashback pari al 50% delle commissioni pagate dall'esercente relative alle transazioni effettuate con il POS si applica all'offerta POS Easy a Commissioni fino al 31 dicembre 2024 la promozione viene attivata automaticamente per tutti i nuovi clienti che avranno scelto di richiedere l'offerta Easy a Commissioni entro il 29 novembre 2024 Fabric rimborserà l'importo promozionale relativo al cashback tramite bonifico mensile posticipato per ogni mese di validità della promo sul conto indicato dall'esercente in fase di sottoscrizione del prodotto Easy a Commissioni saranno esclusi dalla promozione i rimborsi di importi inferiori a 2 euro per i quali non sarà previsto alcun rimborso o cashback l'importo massimo rimborsabile mensilmente inoltre è di 40 euro è previsto il pagamento dell'imposta di bollo di 16 euro per l'attivazione del servizio ed il pagamento di una commissione sulle transazioni effettuate con il POS fissa dell'1% in promozione fino al 31 dicembre 2024 siamo arrivati alla fine di questo video dedicato agli sconti sui POS portatili pensati per questo Black Friday 2024 e io spero come sempre che questo video ti sia piaciuto ma soprattutto ti sia stato utile e ti abbia presentato delle offerte di cui magari non eri a conoscenza ti ricordo inoltre che qui sotto in descrizione trovi un link ad una pagina che ho realizzato dove troverai un confronto su caratteristiche e funzionalità dei principali POS portatili oggi disponibili oltre ovviamente a tutte quelle che sono le offerte attive e poi ancora le mie recensioni che ho pubblicato sul blog oppure all'interno di questo canale se hai dubbi domando se vuoi aggiungere qualcosa sei come sempre il benvenuto qui sotto nei commenti ricordo inoltre ancora una volta di mettere un pollice in su iscriverti ed attivare la campanella se non l'hai già fatto e noi ci vediamo se vorrai con un nuovo video su questo canale